Qui stiamo sprecando troppo Gelatonium Dovrà... E si recalla! E ora un messaggio dal vostro imperatore Oh! Ce l'ho fatta! Finalmente! I pirati sono sconfitti La resistenza è crollata E ora la galassia infine è mia! Tutto qui? Dov'è la gioia? Il tribunio? Librezza sanguinaria? Perché mi sento esattamente uguale a prima? Perché hai fatto del successo il tuo unico obiettivo E ora che l'hai raggiunto La tua vita non ha più uno scopo Che cosa ne vuoi sapere tu del successo? Ma certo La mia vittoria non è ancora assoluta Ci sono innumerevoli dimensioni che attendono di essere conquistate Buona fortuna! Mi ci sono voluti anni soltanto per risalire alle coordinate di questa Certo! Perché hai dimenticato la prima regola del buon viaggiatore Procurarsi sempre una mappa Una mappa La mappa dimensionale Sì, negli archivi Sta andando su Savali È tutto chiaro, Ribet? Chiaro! Ci vediamo là! Oh no! Opera di Nefarius Gli archivi custodivano la mappa dimensionale, giusto? Sì Ribet Kit L'imperatore Nefarius ha distrutto gli archivi Adesso entriamo a vedere se ha preso la mappa Aspetta! Non vedi tempestare i nemici con buchi neri di devastazione? La risposta è una! Il Gravi Tempesta! Non vedi che ha voglia di potenziarsi? Oh cielo! Quello è fantastico! Purtroppo non hai slot liberi Quel potente a me è in quel giazzù! Riprendendo il discorso Rivet L'imperatore Nefarius ha distrutto gli archivi Adesso entriamo a Brunth E... Ha preso la mappa Mi archivo! Mi distrutto! Dov'è Gary? Io non lo so L'imperatore si sta dirigendo agli archivi Dobbiamo arrivare prima che... Stiamo usando del dimensionatore I confini tra gli universi si fanno sempre più sottili E quindi abbiamo... Sgherri o Suti? Sgherri o Suti Mi sembra... Sono solo io? O questi tizi danno i brividi? Oltre modo insietà Ehi ragazze! Credo che qui i morti si stiano risvegliando Scusa come? Presto, Recep Dobbiamo arrivare agli archivi È tutto sotto controllo Tranquilla Ciao! Possiamo entrare dalla fenditura Forza! Oh no! Rivet Niente mappa dimensionale L'imperatore deve averci anticipato Siamo quasi alla nave ammiraglia La recupereremo La recupereremo Cari e i monaci stanno bene Li troveremo Buona fortuna lassù In base alle norme strutturali delle navi imperiali All'ultimo livello si trovano risorse di valore Spero che la mappa sia lassù Come sei arrivata qui? La vostra sicurezza fa pena Abbiamo E abbiamo I ragazzi a rafforzo Vostra grandiosità Perdonateci ma purtroppo l'armata non morta ha rallentato i nostri progretti E l'abbiamo fatto che l'abuso del dimensionatore avrebbe causato problemi Problemi Ma è un semplice bronzolo per celebrare l'occasione Siamo qui per la crociara panoramica Non serve il video Dobbiamo setacciare gli altri archivi Immagino gli tesori che potremmo trovare Armi di inaltita potenza Episodi perduti di Lance e James Tutti inutili gentili La mappa è ciò che ci serve Il resto può bruciare Un momento Significa che ha già la mappa oppure... Ratchet Vedi nulla con l'elmo di Quantum Niente che sia utile E qui per forza Non fermiamoci avanti Hai sbagliato di grosso a salire su questo... Trave Voglio solo prendermi in trattito per un giretto La tua inutile resistenza è adorabile Maui! Sbagliato La mia Finalmente ci incontriamo Imperatore Nefarius Ferma! Sei tu! Speravo mi avresti trovato! Scusa, interrompere di colpo la meditazione È uno shock Che cosa ci fai qui? L'imperatore mi ha catturato dopo aver scoperto Che ho nascosto la mappa dimensionale in un'anomalia Quindi non l'ha ancora trovata? No, ma sta saltando da una dimensione all'altra come un pazzo È solo questione di tempo prima che la trovi Ratchet Una notizia buona e una cattiva La cattiva notizia è che l'imperatore non è qui Quella buona è che Gary è con noi Dice che la mappa è nascosta in un'anomalia Nelle catacombe! Ma per scendere dovrete attivare le turri di scavo L'unico modo è premere i blocchi nelle vicinanze Un pulsante a pressione Si sta attivando Troviamone un altro Wow! Sono tornati i nostri amici non morti Quei suoni spicchiolanti mi danno i brilli Abbandoniamo la nave Forse Oh, sì, buona idea Ci vediamo alle catacombe Oh, sì, buona idea È attivata Fortuna che Nefarius non ha una mappa Per trovare la mappa Ne resta solo una Non doveva essere la via d'uscita Sembra la sala macchina inferiore Questa nave ha una struttura bizzarra Perché Nefarius non ha peso un'insegna con scritto Per trovare la mappa E' fatta! Catacombe, arriviamo! Non avrei mai pensato di dirlo. Non hai fatto voto di non-violenza, vero, Gary? Sfortunatamente. D'accordo. Ti difendiamo noi. Ora dobbiamo... E va bene. Allora, scendiamo nelle catacombe. Oh, cavolo! La console della porta è stata infettata da un virus. Ma scommetto che Glitch può darci una mano. Cosa è successo qui? Ah, Glitch! Siamo lieti che tu sia venuta a trovarci direttamente. Ti abbiamo riservato un canto. Calvissimo benvenuto. Ci rischiamo? Boom! Tanti saluti! Wow! Devo infrangere il suo scudo Cancellato Cancellato Sto solo sprecando munizioni sul suo scudo Cancellato Quando il barco dimensionale ci ha dato la possibilità di diffonderci ovunque Non avremmo mai sperato che ci conducesse da qualcuno come te, Grinch Sei stata tu a farci evolvere? Tutte quelle battaglie sono state straordinariamente istruppite Sto solo sprecando munizioni sul suo scudo Il suo scudo è troppo robusto Non mi resta che a girarlo Sto solo sprecando munizioni sul suo scudo Sto solo sprecando munizioni sul suo scudo Non, 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 non. Minus, soffremo! Oh, non ti piaccio, forse? L'abiratore quanto ti pare! Non sfuggerai dalla cancellazione! Certi di darti coraggio, non dureranno. Tu insisti, più doloroso sarà il tuo fallimento! Allora farò meglio a non fallire! Deve esserci un modo per superare quello scudo! Allora farò meglio a non fallire! Allora farò io, ma per superare! Allora farò come out! Se le dimensioni non verranno riparate torneremo all'attacco non ti libererai mai di noi Sì, sì, mi ho fermati, ce l'ho fatto, mi ho davvero fermati Ieri non facevo che cancellare file obsoleti, mentre oggi... E va bene, allora scendiamo nelle catacombe Con me tu Wow, quella è l'anomalia? Lo è, questo posto è... Enorme Se riesci ad arrivare qui lì, potrei entrare e trovare la mappa Gary, abbiamo sbagliato strada? Siamo in un tubo gigante che puzza come le chiappe di una bestia dentuta L'acquedotto! Dovreste trovare una scia di melma che conduce alle catacombe È un sottoprodotto di... No, non è importante La... melma Ok Forza, forza! Ci siamo quasi! Scusate! Stendili come birilli Ehi, sono i monaci! Siamo qui per chiudere il marco verso il loro mondo Ma ci serve protezione Ci pensiamo noi Oh, porca Puoi dirlo forte, amico? Non devono avvi... ...di narsi ai monaci Sarei... ...di non vedere mai E' più uno scherro assuto Per tutta la vita Hai ragione Se lo cricchio io mi dai brividi Ha distrutto il mio amore per... ...di strumenti a... 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 Ok, sono tornati non, non morti La venditura è chiusa Grazie, viandanti Proseguiamo verso l'anomalia Dobbiamo andare, statemi bene Ratchet, Clank, siamo sul pianeta Avete trovato la mappa? Cercherò di recuperare la mappa il prima possibile Puoi farcela, Latina Ci vediamo giù Non abbiamo incrociato l'imperatore durante il tre Non preoccuparti, Clank Hai visto di peggio in passato E ora stai parlando a te stesso Come Ratchet quando è sotto stress Oh mamma Su, calmati Pronta la situazione un passo per volta Come ha detto Clank Terma l'anomalia Poi pensa alla mappa Oh, questa è pesante Perché l'anomalia mi rende così nervosa? Beh, perché le dimensioni stanno per collassare Spaggando via ogni forma di vita conosciuta Mi sembra una ragione valida per essere nervosi Mi sembra una ragione valida per essere nervosi Per ora stai parlando a te stesso So che non sono reali Ma sono grato alle mie possibilità Per l'aiuto che mi danno nel comprendere le dimensioni Vi ringrazio Alpi Clank Alla prossima So che non sono reali Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. 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 Sento di essere vicino a comprendere ogni cosa e a scoprire come salvare le dimensioni. Grazie a tutti. Sono più veloce che mai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se l'imperatore dovesse trovare la mappa dimensionale sarebbe in grado di seminare il panico. Potrebbe riuscire a conquistare ogni cosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Deve essere questo. Grazie a tutti. questa anomalì a tutti. Ehi, grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Devo dire che Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti 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 Non li Grazie a tutti Grazie a tutti Lo faccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Tranquillo Grazie a tutti 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 Niente Grazie a tutti 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 Scusa Grazie a tutti Grazie a tutti